Buongiorno direttore, l'ha riconfermato Dionisi? Si, non è stato messo in discussione, resta la preoccupazione per i risultati proprio italisti. Beh, sicuramente i risultati non sono dei migliori, però crediamo di avere anche una buona squadra, crediamo di avere un buon allenatore per cui ho sentito già da più di tempo, perché più di un mese che si parla di questa situazione di Dionisi, ma nello stesso tempo però non è mai cambiato nulla, per cui andiamo avanti sicuramente con lui, cercando comunque di continuare un po' in quello che si è visto anche nella tua partita contro Torino. Il dottor Galena ha detto che è un'assemblea dedicata per oggi, cosa vi hai aspettato? Beh, niente di particolare. Sulla Serie A 18 squadre? Noi sicuramente siamo favorevoli per le 20, ma non è tanto un problema di 18-20, è un problema invece di riformare un po' il calcio con delle nuove opportunità, nuovi sistemi, per cui credo che è limitativo parlare di 18-20, sicuramente non è questo il nostro problema, i problemi sono altri e sono dei problemi ben importanti. Ma c'è più attenzione tra la Serie A e la FGC o all'interno della Serie A tra big e piccole? Dobbiamo cominciare a risolvere i problemi al nostro interno. Grazie. Grazie. Grazie.